Chi è pronto a ballare e rilassarsi? Noi! È ora della Winter Disco! Hey, BBs! Sono la vostra Tani! E io, Michael Michelle! Ragazzi, è la fine dell'estate! Ma questo significa che le LOL Surprise si stanno preparando per la più grande festa della stagione! Ecco a voi! LOL Surprise Winter Disco! Con le Glitter Glove, i Fluffy Pants e le Lils! Vendute separatamente! Cominciamo con le Glitter Glove! Otto sorprese! Noi ci siamo! Le Winter Disco sembrano delle palle da discoteca! Tani, prima di aprirle aspetta! Guarda qui! Sembra una palla da discoteca con i glitter! Lo so! Vediamo cosa c'è dentro! Snow Leopard! Guarda i suoi capelli! Sembrano di cristallo, ma dentro hanno i glitter! È così cool! Più cool perché le daremo da bere! Oh, sì! Consiglio! Se tenete la bambola inclinata mentre le date da bere, i suoi capelli si riempiranno d'acqua! E ora, BB pronta! Poi, per evitare di far uscire l'acqua, tappatele la bocca con la pallina! I suoi capelli brillano come una palla di neve! È davvero stupenda! L'acqua è rosa! Glitter, glitter, glitter! Glitter, glitter, glitter! Ha fatto una bolla! Le glitter globe sono tutte coloratissime! Prezzi, ha le stelline nei capelli! Mentre Tinsel li ha di tre colori diversi! E anche la sfera può avere il suo makeover si riempie di glitter! Mettere l'acqua nella sfera è semplicissimo! Devi solamente aprire il tappo, inclinare la sfera in questo modo e aggiungere l'acqua lentamente! Wow! È magnifico! Chiudete! Agitate! Oh, è fantastico! Sembra un'esplosione di glitter! Cambia anche colore! Anch'io, anch'io! Festa, festa, festa! Festa, festa, festa! Party, 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 party! Discoteca in casa! Ora sai che faccio? Boom! Snow Leopard è stupenda! Fotografi! A Snow Leopard serve un amico! Un Fluffy Pets! Nelle LOL Surprise Fluffy Pets ci sono nove sorprese! Questo sembra essere un morbido panda! Lo è? Oh, è così morbido! Non lo vedo nel libretto! Oh, ho capito! È un travestimento! Oh, è morbidissimo! Dan-da-da-dan! Tutti i Fluffy Pets sono irriconoscibili! Hanno indosso un'adorabile, riutilizzabile, morbidissima pelliccia! E in testa hanno anche una mollettina stupenda per fermarla! Ora possiamo scoprire chi è! Tadà! Questo lo metto qua! Per tenerlo da parte, la pelliccia dei Fluffy Pets è riutilizzabile! Puoi mischiare e creare nuovi fantastici look con tutti gli animali! Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo! Lo amo, lo amo! Consiglio, comincia a rivestire il tuo cucciolo Fluffy Pets con l'ultima parte che hai tolto! Michael Michelle, hai trovato Bunny in the Boots? Sì! È così dolce! Sì, lo è! Diamogli un look speciale! Sì! Questo piccolo cappellino! Carino! Che ne dici di una coda? No, è vero! È super carino! Mettiamo anche questo! Che bello! È adorabile! Anche tutte le sfere dei Fluffy Pets si riempiono di glitter quando aggiungi l'acqua! Potete anche infilarle! Ora ci manca l'ultima! Bello al surprise, Lils! In tutte queste sfere troverete cinque sorprese! Ci sono le sorelline, i fratellini e ai cuccioli si può togliere il pelo! Togliamoli tutto il pelo! Vediamo! Lava, lava! Fantastico massaggio! Oh, ha trovato Puffet Ten! Collezionando queste sfere potremo fare anche un pupazzo di neve glitterato! Perfetto! Mettiamo Puffet Ten dentro! Togliamo gli occhiali, lo chiudiamo... Oh! Ma non è ancora un pupazzo di neve, perché non ha la faccia! In tutte le sfere, Lils, ci sono gli adesivi! Amo gli adesivi! Diamogli una bocca... Occhi... Due occhi, ovviamente! Il naso! Manca solo l'ultimo tocco per finire! Tadà! C'è un pupazzo di neve glitterato! Glitter, glitter, glitter! È sempre il momento dei glitter! Io amo i glitter! Le Winter Disco sono appena arrivate! E dalle LOL Surprise arriveranno! Avete indovinato? Sorprese! Seguiteci e alla prossima! Ciao! Ciao!